Terza corsa ad Agnano, premio Mission Impossible, una maiden per femmine di tre anni sul doppio chilometro di 13, le concorrenti al via in prima fila, election AS, incantata B, Enna Jet, Eureka Wiesel, Esmeralda SM, Estrella e Leggei, Ersi Prinzessi Z, Electra Thor, seconda per Ermione Leone, Enfasi Model, Ermione Pella e Mara Jet ed Elettrai Z. Sbaglia Estrella e Leggei nelle fasi di allineamento, Enna Jet la più veloce che porta parecchio avanti anche Ermione Pella, le sta a filtrare dalla seconda fila. All'imbocco della prima piegata si vanno delineando le posizioni, Ermione Pella punta sulla leader Enna Jet, va a chiedere ad ottenere il via libera. Rimane a largo Esmeralda SM che probabilmente punterà in avanti nella frazione successiva, ma trova l'anticipo di Encantata B pronta a muovere a largo e ad andare su Ermione Pella, anche essa probabilmente otterra strada. Per cui dopo circa 500 metri di gara la Bull Deagle affidata a Michele di Francia a dettare i ritmi. Nei confronti di Ermione Pella, Enna Jet, terza lungo i paletti, a largo costruisce Esmeralda SM un paio di lunghezze più dietro, Ersi Prinzessi Z. Completati 600 in 47 e mezzo, le concorrenti arrivano agli 800 in 1,3 e 3,16 di ultima frazione. Esmeralda che si industria ai lati della leader Encantata B. Poi una pariglia composta da Ermione Pella e Ersi Prinzessi Z. 18 scarsi il primo chilometro. Encantata B, Ermione Pella e Esmeralda SM, Ersi Prinzessi Z. In terza pariglia si va a sistemare adesso Electra i Z. Curva ancora in 16, si viaggia sul piede dell'1,17. Esmeralda SM comincia a mettere pressione ad Encantata B. Ermione Pella si libera dai paletti in anticipo su Ersi Prinzessi Z. Ultimi 200 metri in 15 scarsi. Esmeralda SM in vantaggio, Ermione Pella e Ersi Prinzessi a largo. Di dentro ancora Encantata B. Prova ad avvicinarsi anche Maraget. I concorrenti stanno per completare la curva conclusiva con Esmeralda SM in vantaggio e Ersi Prinzessi Z costantemente in terza ruota. Esmeralda SM ancora in vantaggio. Ci prova Ersi Prinzessi. va di dentro Ermione Pella e Esmeralda SM fino al traguardo nelle mani di Benedetto Marigliano che la interpreta veramente nel miglior modo possibile. Poi lungo i paletti Ermione Pella sì, Ermione Pella. Pare aver conservato la piazza d'onore ai danni di Ersi Prinzessi Z che chiude il podio per la vincitrice media di 1,16 e mezzo sul doppio chilometro con almeno 1.400 metri a largo. i colori della signora Tamara Di Stefano, contenta del successo della sua allieva. Arrivo probabile ed ufficioso 5.11.7. Affermazione di Esmeralda SM e Benedetto Marigliano sia alla guida che al training.